In quest'opera di piccolissimo formato dipinta da Jacques Stella su una lastra di rame sono rappresentati fianco a fianco un gran numero di personaggi. Gesù bambino è seduto sulle ginocchia di Maria. Elisabetta, suo marito Zaccaria e il loro figlio Giovanni Battista porgono dei doni al bambinello. Anche quattro angioletti rendono omaggio al Salvatore con fiori e grappoli d'uva frutti della terra. Il bambinello tuttavia non sembra prestare attenzione a tutte queste premure. Egli infatti protende le braccia verso il cielo dove appare Dio Padre, sopra la colomba dello Spirito Santo. Contemporaneamente schiere di cherubini portano gli arnesi della passione, corona di spine, croce, chiodi, colonna della flagellazione e altri strumenti di supplizio preannunciando in questo modo il sacrificio futuro di Gesù e la sua morte. Il pittore sottolinea in quest'opera la duplice natura e la duplice filiazione del Cristo, uomo e Dio allo stesso tempo. In questo modo l'artista illustra una delle idee teologiche dominanti all'inizio del XVII secolo. Nel 1627 il cardinale Pierre de Berulle scrive a tal proposito Gesù Cristo è re, è re nato, potendo contare su una duplice nascita e una duplice essenza, una in seno al Padre, l'altra in seno alla Vergine. Egli porta la qualità di re e sovrano nell'una e nell'altra delle sue due nature. L'incontro tra umano e divino, tra naturale e soprannaturale, è proprio al centro di questa raffigurazione. Jacques Stella organizza lo spazio di quest'incontro in una composizione simmetrica tramite un contrasto di linee e di costruzione che collegano i personaggi. Unifica l'insieme della scena tramite una luce durata e calda, grazie alla tonalità naturale del rame che funge da supporto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.